Un dibattito falso, finto, che non centra le questioni vere dei problemi che esistono, porta a considerare vittoriose tutte le forze politiche che hanno partecipato l'altro ieri all'elezione del nuovo Consiglio provinciale. Ricordiamo un'elezione di secondo livello perché a votare sono soltanto gli amministratori pubblici. In realtà non ha vinto nessuno perché nessuna forza politica ha i numeri per poter governare, a meno che non si operi attraverso la logica trasformista e la cosa è molto possibile considerato che già a Palazzo di Città e al Comune una pratica di questo tipo è in atto con il sindaco Melucci che di fatto governa con alcuni componenti del centro-destra. Ma il punto è un altro. Per questo diciamo che è una discussione finta, falsa. Nessuno si preoccupa di dare degli indirizzi su come la provincia possa governare l'area tarantina per i prossimi mesi e anni. Ricordiamo che questi enti, dopo la riforma del Rio, conservano alcuni settori di intervento strategici come l'edilizia scolastica, la qualità delle nostre strade e l'incidente dell'altro giorno sulla strada Lecento, sta a testimoniare quanto il tema sia sempre avvertito alle nostre latitudini e poi le politiche ambientali. Nella provincia di Taranto ci sono molte scuole per esempio che sono sprovviste del certificato di agibilità. Delle strade è inutile parlarne perché sappiamo molto bene come la provincia ionica sia una provincia in cui molte strade non presentino il requisito della sicurezza e sulle politiche ambientali tutto quello che il capologo ionico offre in termini di scempie ambientali è ormai talmente noto da far discutere della realtà tarantina non soltanto il paese ma l'intera Europa. Nessuno, ripetiamo, parla di programmi, di proposte di governo. Tutti, in maniera finta, si intestano una vittoria che in realtà è una sconfitta per coloro i quali pensano che il governo dell'accusa pubblica passi soltanto dal conseguimento dei voti.